Se non sposti la residenza ma ti trasferisci per i fatti tuoi, non rimani con la tassazione italiana. Ho una domanda lievemente off topic. Che succede ai miei investimenti finanziari se mi trasferisco all'estero? Devo pagare il 26% su tutto il capital gain ottenuto in Italia come sorta di exit tax? Allora, intanto dipende se tu sposti la residenza o meno. Quindi intanto questo, se non sposti la residenza ma ti trasferisci per i fatti tuoi, rimani con la tassazione italiana. Quindi per quello non c'è problema, la tua banca e il tuo istituto continueranno a farti da sostituto d'imposta e quindi non cambia assolutamente niente. Se invece ti sposti e quindi cambi anche la residenza, qui bisogna capire se vendi per spostarti o no. Se vendi ovviamente paghi il 26% perché hai venduto, hai liquido e sposti. Altrimenti no, altrimenti non sei tenuto al pagamento di nessuna tassa perché non hai venduto. Quando venderai bisogna vedere dove ti sei spostato, ma realisticamente continuerai a fare riferimento a dove è domiciliata la banca. Quindi se ti trasferisci nell'Unione Europea funziona così. Poi chiaro che se ti trasferisci in Kenya onestamente non ne ho la più pallida idea, però nei paesi, diciamo Unione Europea, Stati Uniti, Canada, insomma quelli con cui l'Italia ha degli accordi bilaterali, ci sono delle norme apposite che bisogna fare. Fondamentalmente nella maggior parte dei casi dovrai pagare una tassazione sia qua che là e verrà più o meno divisa a seconda dei vari scaglioni fiscali. Esatto, sì ci sono degli accordi, quindi dipende, bisognerebbe analizzare un pochino la tua specifica situazione. Non è una roba facile e banale, ci sono dei commercialisti, noi conosciamo uno molto bravo, che fanno apposta questo lavoro, cioè si occupano di tassazione nel momento dei trasferimenti. Ovviamente si occupano di tassazione in generale, non solo degli strumenti finanziari, però insomma la regola è questa. Ognuno di noi ha dei sogni in ambito finanziario. Comprare la casa dei tuoi sogni, raggiungere la libertà finanziaria o qualunque altra cosa ti venga in mente. Ma questi sono sogni in ambito finanziario. Ma noi ci chiamiamo piano finanziario e quindi riteniamo che sia fondamentale trasformare i sogni in piani, qualcosa che è una visione per realizzare le nostre ambizioni di vita utilizzando nel migliore dei modi il nostro patrimonio e il nostro risparmio. Per aiutarti a capire come creare un piano per realizzare i tuoi sogni in ambito finanziario, mantenendo però la concretezza che ci contraddistingue, abbiamo deciso di organizzare un evento totalmente gratuito che si terrà il 22 luglio alle ore 21, che è intitolato proprio dal sogno al piano, ovviamente in ambito finanziario. Se vuoi approfondire il tema della pianificazione finanziaria, non perderti assolutamente questo evento. Pronota il tuo posto cliccando il link che trovi in descrizione di questo video. Ti aspetto il 22 luglio alle ore 21. Se vai in una banca all'estero che ti permette di trasferire tutto il deposito titoli, allora praticamente tu sposti il deposito titoli da Italia a estero, questo però bisogna vedere se si può fare, non lo fanno tutte le banche e non lo fanno in tutti i paesi e in quel caso lì semplicemente non andrai a pagare capital gain perché stai solo spostando e ti viene conservato il prezzo medio di carico che avevi qui e dovrai andare a pagare la tassazione quando venderai e la tassazione sarà quella del paese dove ti sei trasferito. Quindi questa per esempio è una delle possibilità. Poi non è detto che convenga perché potresti andare in una situazione in cui il passaggio da una banca all'altra con istituto di deposito titoli ha dei costi significativi e allora potrebbe non convenire, potrebbe essere il caso semplicemente di vendere soprattutto su piccoli portafogli oppure magari mantieni comunque la residenza in Italia e una parte di pagamento in Italia e puoi mettere quel 26% come pagamento in Italia. Insomma i 7,30% sono tutti ognuno fatto per sé e quindi è un po' difficile darti una mano ma spero di averti dato almeno le linee guida generali. Grazie.